Buongiorno, benvenuti al webinar di oggi, organizzato sempre per il progetto del livello nazionale che Informitz gestisce per conto del Dipartimento della Commissione Pubblica. Il webinar di oggi, che sarà convinto dal processore Luigi Laura, prenderà in esame il tema degli algoritmi, sempre declinato e sempre alla ricerca del legame che questi temi con gli algoritmi, l'intelligenza artificiale e la teoria delle decisioni, possono avere nell'ottica della scientificazione. Avrete spazio per le domande, o meglio per la risposta alle domande negli ultimi dieci minuti della presentazione, ma vi invitiamo a scrivere in chat le vostre domande, così da poterle leggere al relatore e se saranno legate al momento troveranno risposta subito. Ricordo che l'attestazione della presenza verrà fatta per quanti prenderanno parte all'interno della metà del webinar e che potete poi scaricare l'attestato di iscrizione al webinar una volta attestata la presenza, quindi dallo spazio negli eventi. Si sente una seconda voce? Mi dicono, non credo sia un suo rimbombo, provate a regolare la... non capisco. Vabbè, vediamo di risolvere questo problema di eco. Chiedo al professor Laura di attivare webcam e microfono, così buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Tutto a posto? Allora, io passo la parola al professor Luigi Laura e resto in back, scrivete in chat se ci sono problemi. Allora, buongiorno a tutti, scrivete in chat anche se avete domande. Ecco, forse io adesso non sento più l'ego, non so se questo è... diciamo se il problema è stato risolto. Allora, oggi parliamo di algoritmi, intelligenza artificiale e decisioni, insomma, ecco, cerchiamo di tirare un po' i tino di somme. E parto con... parto con un'affermazione fatta da Mark Zuckerberg, che penso conosciate, che ha dichiarato in 15 anni insegneremo a programmare così come insegniamo a leggere e a scrivere. E ci domanderemo perché non l'abbiamo fatto prima. Allora, questa, diciamo, può sembrare, fra l'altro, una cosa che ha detto oramai qualche anno fa, quindi diciamo che mancano una decina di anni a questa cosa, ma... diciamo, la... essenzialmente vi domando, secondo voi è plausibile uno scenario di questo genere? E qui potete digitare, qui potete... vedo che qualcuno sta scrivendo. È plausibile che insegneremo la programmazione? Ecco, vedo, vedo qualcuno inizia ad essere plausibile... Allora, vedo che grazie dice, è plausibile ma non auspicabile. Allora, a questo punto in realtà vorrei cercare di farvi, darvi una prospettiva leggermente diversa e... e... essenzialmente vi domando... dipende cosa intende per programmare. Ok, va benissimo. Allora, vediamo un pochettino. Facciamo un po' di... allora, assumo che nella... assumo che nell'audience forse ci sarà anche qualche matematico. Però vi domando, conoscete lo zero? qui potete scrivere... so, la cosa sembra strana. Cioè... allora, mi rispondo, sì, conosciamo lo zero. Ok, la domanda è... e... quando è che lo zero è arrivato in Europa? In che senso? Ecco, no, questo è il punto su cui voglio un pochettino dibattere, ecco. Conoscete lo zero? Quando è lo zero è arrivato in Europa? Ok, mi dicono con gli arabi. Con gli arabi, medioevo. Allora, facciamo un filino di storia per dirvi che forse... allora, lo zero è stato inventato... eh sì, sto usando questa parola... inventato circa nel 600 d.C. da Brahma Gupta. e... eh... e in realtà, poi, quello che è successo è che... eh... Mohamed Al-Kuvarizmi, che è un nome che vi dovrebbe far insospettire, insomma, Al-Kuvarizmi, vi dico da cui poi deriva... eh... qui vedete le rappresentazioni del suo volto, abbiamo iniziato l'inventore dell'algebra. Mohamed Al-Kuvarizmi è quello che ha un pochettino ha sistematizzato e ha scritto un'opera fondamentale, che però poi in... eh... diciamo in Italia, in Europa, è arrivata tardi, esattamente. Nel... è arrivata grazie all'opera di questa persona, che... sapete... sapete dirmi il nome qualcuno? Vedo qualcuno sta scrivendo... Fibonacci, grazie, esattamente. Leonardo Pisano ha detto Fibonacci, da Filius Bonacci, anche se poi in realtà è un soprannome dato in tempi recenti, e il merito di Fibonacci è stato esattamente quello di... eh... trascrivere l'opera di Al-Kuvarizmi e... e portare essenzialmente le cifre, quelle che noi chiamiamo tipicamente le cifre arabe, cioè le cifre con cui facciamo i conti, qui vedete... in realtà qui vedono l'apprentazione della sezione Aurea, ma è un altro contributo di Fibonacci, un'altra storia, e... e a questo punto vi domando perché... eh... perché noi abbiamo... perché abbiamo preso le cifre arabe? Non potevamo stare... io poi visto, diciamo, la mia lezione mia è da Roma, quindi, insomma, diciamo, a Roma nel 1200 avevamo il sistema, i numeri romani, che erano consolidati, li usavamo da più di mille anni, insomma, quindi diciamo era un sistema piuttosto un solidato. Perché lo abbiamo modificato? Perché lo abbiamo cambiato? idee? Riccardo Scano scrive inefficienza numerica, ok. Perché più semplice di immediate? Beh, più semplice di immediate dipende, perché vi direi che, per esempio, usare la m per mille è più semplice, scrive un 1 seguito da 3 zeri. Velocità e grafica ridotta? No, la grafica ridotta dipende dai numeri, perché alcuni numeri sono più brevi se scritti con le cifre romane, altri sono più... in realtà questo è il vero grande problema, che noi non possiamo fare le operazioni con i numeri romani, cioè se io vi do da fare questa operazione, voi forse riuscite a darmi il risultato, ma solo perché nella vostra mente convertite i due numeri che vedete, questo è un 17 e un 12, lo convertite e arriviamo a fare questa che è un'operazione. Allora, questa che vedete qui, che è l'operazione di moltiplicazione in colonna, è in realtà una delle invenzioni correlate all'invenzione dello zero, perché in realtà prima sono stato volutamente ambiguo, nel senso che lo zero nasce, lo zero inteso come non ho niente, è un concetto che è sempre stato radicato nell'uomo, anche l'uomo primitivo, insomma, cioè tornava a dire quanti bufa gli hai cacciato, nessuno, zero. L'idea di usare una cifra per separare è stata un'invenzione del 600 e questo fra l'altro ha avuto grosse conseguenze, non so se ci avete mai fatto caso, ma i romani non hanno il numero zero e questo ha fatto sì e quando è stato riformato il calendario, non so se ve ne siete mai accorti, ma noi si passa dall'1 avanti Cristo all'1 dopo Cristo, non esiste l'anno zero, quindi non è neanche chiaro in questa riforma, cioè l'1 avanti Cristo è Gesù Cristo nascerà l'anno prossimo, l'1 dopo Cristo è Gesù Cristo è nato lo scorso anno, servirebbe uno zero, lo zero non c'è. Per la cronaca pare da studi l'anno di nascita sia da attribuire sia al 4 avanti Cristo, però diciamo su questo poi torniamo. Allora, la cosa interessante è che voi non ve ne siete accorti, ma questo che avete imparato e avete la moltiplicazione in colonna è a tutti gli effetti un algoritmo, non solo è un algoritmo, ma è un algoritmo che avete imparato ad elementari, chiaramente non l'avete chiamato in questo nome, ma è un algoritmo anche dal punto di vista filologico forse è tra i più importanti, perché? Perché era tra gli algoritmi descritti da Alcubarizmi nel suo libro, nella sua opera, e quindi in un certo senso il termine algoritmo deriva proprio da queste operazioni che noi facciamo, quindi il termine algoritmo deriva proprio dalla storpiatura del nome di Alcubarizmi, che poi in traduzioni successive dell'opera di Alcubarizmi intorno al XVII secolo in Italia iniziavano dicendo Dixit algoritmi e da lì è diventato algoritmi qualsiasi procedimento formale di calcolo. E quindi vi domando, ma se... allora notate, quindi incertamente abbiamo scoperto che fino al... allora, quando è che Fibonacci introduce questa cosa? Fibonacci scrive questa cosa nel 1202, Fibonacci scrive un libro meraviglioso che si chiama Il Liber Abbaci, il libro del calcolo, abbaco inteso come nel senso del calcolo, perché? Perché il problema era che fino a quel momento, come si facevano le operazioni? Fino al 1200, fino al 1300, in realtà pure fino al 1500, come si facevano le operazioni? Qualcuno ha idea? Vedo Vincenzo Esporti lo sta digitando con l'abbaco, esattamente con l'abbaco o pallottoliere. Quindi tenete presente una cosa che noi abbiamo per certi versi dimenticato, è che nel Medioevo i mercanti, ogni mercante, cioè questa è una professione, se mi consentite forse una tra le prime professioni che è stata eliminata, cancellata dagli algoritmi, forse la primissima, gli abbacisti. Gli abbacisti erano una classe specializzata, una cassa specializzata, tenete presente all'epoca, nel Medioevo le persone non sapevano fare i conti, era una specializzazione, solo chi studiava e imparava a usare l'abbaco diventava poi in grado di fare i conti. Quindi abbiamo, iniziamo a vedere un po' di cose, per esempio Dante Alighieri sapeva fare i conti? Qualcuno ha idea? Dante Alighieri sapeva fare i calcoli? Qualcuno sta scrivendo? No, in realtà Dante Alighieri qui scrive così, Dante Alighieri non sapeva fare i calcoli, in realtà il figlio di Dante ha studiato da abbacista, ma ha anche scritto un sonetto dedicandolo al maestro abbacista con cui ha studiato, e quindi da questo sappiamo che il figlio di Dante ha studiato abbacista. Quindi si arriva a una situazione in cui, questa è un'immagine del 1500, del 1503, tratta da un'opera a margarita filosofica, in cui si vede quella che viene considerata la disfida del calcolo del Medioevo, ovvero gli abbacisti, che sono qui con il loro palotto di Arira, in realtà quello che vedete qui è una sorta di tal, esistono diverse forme di abbaco, ma su questo poi si può, questa è una forma che usava i gettoni da conto, e contro, questo è l'abbacista, contro l'algoritmista, l'algoritmista che invece utilizza le operazioni che abbiamo imparato noi. Qui al centro c'è la dea aritmetica che già volge, si capisce che tra i due privilegia l'algoritmista sia per il fatto che volge lo sguardo verso l'algoritmista, sia per il fatto che sulle vesti della dea ci sono i numeri arabi. Allora, notate, su questo è solo per dirvi che tutto sommato le cose cambiano con il tempo, e in effetti cose che noi abbiamo dato per scontate, ovvero saper fare le operazioni, innanzitutto ci accorgiamo che è un algoritmo, che lo avete imparato, e vi domando anche, voi fate le operazioni, cioè vi è servito imparare a fare le operazioni, cioè quante volte al giorno voi fate moltiplicazioni in colonna e divisioni in colonna ad esempio? Tommaso Cappagna continuamente, quindi Tommaso tu mi stai dicendo che tutti i giorni quando devi fare una moltiplicazione tu prendi carta e penna e fai la moltiplicazione. Ah, Tommaso Cappagna, ok, Tommaso Cappagna, ok, complimenti, allora Tommaso continua a usare, tutti gli altri suppongo usiate la calcolatrice, ma il fatto di usare calcolatrice, file Excel, cellulare e quant'altro non vi, diciamo, sospetto non condizioni il fatto che riteniate utile è il fatto di aver imparato a fare le moltiplicazioni e soprattutto aver imparato a fare, esatto, quindi noi usiamo esattamente questo, è il punto, ecco qua, grazie a Polito dice mentalmente facciamo spesso queste operazioni semplici, esatto. quindi in realtà se vi andate a vedere noi abbiamo imparato delle cose che tutto sommato usiamo pochino, però ci sono servite e adesso non ci sogneremmo di mettere in discussione il fatto di aver imparato a fare queste operazioni, anche se considerate nel Medioevo era una cassa specializzata e quindi in un certo senso così come nel Medioevo c'erano gli algoritmi, gli abbacisti che erano specializzati nel calcolo ed erano gli unici che imparavano a fare i calcoli, oggi noi abbiamo i programmatori che sono gli unici che imparano a fare programmazione ma in realtà quello dove voglio arrivare è il fatto di cercare di convincervi del fatto che tutto sommato noi gli algoritmi ne abbiamo sempre pensati, abbiamo impiegato un pochettino di più per arrivare a implementarli in maniera automatica, allora qui vedete un labirinto, un labirinto preso dal film Labyrinth, qui forse vi ricordate il film Il nome della Rosa, nel nome della Rosa viene raccontato un algoritmo complesso che serve a uscire dal labirinto, poi in realtà se avete sia letto il libro che visto il film forse avrete notato una discrepanza perché nel libro veniva usato un algoritmo piuttosto complicato che è quello che in cerco tecnico oggi corrisponde alla visita in profondità di un grafo, ma se non ho capito questa frase se non vi preoccupate, mentre nel film veniva usata la cosiddetta regola della mano sinistra o mano destra, quindi per uscire da un labirinto uno mette la mano su una parete del labirinto e inizia a camminare tenendo sempre la mano fissa su quella parete e questa tecnica, questo algoritmo garantisce di trovare l'uscita del labirinto oppure se il labirinto ha un'unica entrata e uscita, consente di esplorare tutto il labirinto e poi uscirne. Altre cose, chi ha visto il webinar di un paio di settimane fa sa che Giulio Cesare ha inventato algoritmi, ha inventato algoritmi per codificare le informazioni e notate bene qui, quindi continuiamo a vedere persone che hanno inventato algoritmi, questi sono, sempre per chi ha visto il webinar di un paio di settimane fa, questi sono codici fatti e decodificati da questo di sopra, è tratto dall'opera di Sherlock Holmes e dal racconto di Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes e il mistero degli uomini ballerini, questo di sotto è tratto da invece da Edgar Allan Poe, lo scarabeo d'oro e questa è tutta la codifica delle informazioni, è una problematica che l'uomo ha da sempre affrontato e essenzialmente non aveva però una macchina per risolvere, quindi notate, iniziamo a vedere questa, iniziamo a notare questa distinzione, una distinzione fondamentale, algoritmi, l'algoritmo è essenzialmente un procedimento astratto per arrivare a un risultato e il programma al computer o il computer o un è, è un qualche cosa di concreto, se vogliamo, se me lo passate un pochettino come la ricetta di un piatto, cioè adesso io sono a Roma, diciamo, la carbonara è considerata un piatto tradizionale romano, io posso conoscere la ricetta della carbonara, ma in questo momento non ho una carbonara qui che è l'implementazione pratica, quindi iniziamo a distinguere fra la parte teorica dell'informatica che è un qualche cosa in realtà che è da sempre accompagna l'uomo, tenete presente che i primi algoritmi di cui abbiamo traccia sono delle tavolette babilonesi e dei papiri egiziani, grosso modo entrambi risalenti a circa 4.000 anni fa, quindi vediamo che appunto gli algoritmi li abbiamo sempre avuti, se non che li abbiamo sempre avuti, però notiamo una proprietà di alcuni di questi algoritmi, la proprietà è che, diciamo, la moltiplicazione, allora abbiamo visto che Tommaso Campagna è più allenato di tutti quanti noi a fare le moltiplicazioni, quindi la domanda è, diciamo, però concordate che se una moltiplicazione la faccio io con la calcolatrice, la fa Tommaso con carta e penna, o la fa Vincenzo Baraniello con il computer, si è d'accordo che il risultato dovrebbe essere sempre lo stesso, no? Esatto, sì. E quindi allora qui nasce una cosa, allora notate, quindi abbiamo trovato delle operazioni in cui in un certo senso le caratteristiche mie di Tommaso e di Vincenzo sono, vanno un po' perse, nel senso magari uno di noi è un po' più creativo o qualche cosa, sono delle operazioni per cui non ci interessa essenzialmente chi esegue l'operazione, perché l'operazione deve dare sempre lo stesso risultato indipendentemente da chi la fa. Grazie a Ippolito dice, con carta e penna si può sbagliare la calcolatrice o non sbaglia? Ni, nel senso la calcolatrice ben costruita non sbaglia, però forse qualche patito di informatica si ricorderà che a un certo punto nella linea di processore Intel della Pentium ne uscì uno con un bug e quindi aveva dei problemi a fare dei calcoli numerici di alcuni tipi e quindi anche con il computer si potevano sbagliare i compili. Quindi che cosa è successo? L'uomo da sempre ha iniziato a cercare di costruire delle macchine per automatizzare i processi che in un certo senso non dipendevano dall'uomo, cioè non dipendevano dal fatto di possedere particolarità. Allora, mi sapete dire chi è lo scienziato dell'antichità mostrato in figura? Qualcuno riconosce questo scienziato e poi vi racconto che cosa sia questa? Cristina sta digitando. No, non è Leonardo. Non è Leonardo. Se vi dico Siracusa? No, non Bacone, non Galilei, non Verdi. Vi ho detto Siracusa? Archimede, perfetto, Archimede. Allora, Archimede come sapete ha costruito anche diversi macchinari da guerra. Questa è una ricostruzione di un pezzo del cosiddetto planetario di Archimede. Che cos'era il planetario? Il planetario era una macchina che serviva a prevedere il movimento degli astri nel cielo. Perché ci serviva a prevedere il movimento degli astri nel cielo? Qualche idea? Bravissimi, per la navigazione, perché giustamente per la navigazione. Allora, non solo, vi insegnano anche che una cosa, diciamo, dopo l'assedio di Siracusa, il planetario di Archimede fu portato a Roma e fu portato a Roma e i romani lo usarono, almeno così ci racconta Cicerone, per vincere, forse vi ricorderete, la battaglia di Pidna, la prima battaglia di Pidna, quella del 168 a.C., che conclude la guerra, la terza guerra macedone. Allora, grazie al planetario, il planetario mostra la posizione relativa di Sole, Luna e dei principali pianeti visibili. Allora, che cosa succede? Fra l'altro la battaglia di Pidna è uno dei pochi eventi della storia passata che riusciamo a datare con estrema precisione, perché grazie al planetario progettato da Archimede, i romani riuscirono a prevedere che la notte, prima della battaglia, ci sarebbe stata un'eclissi di Luna. Allora, voi sapete, avete visto qualche eclissi di Luna nella vostra vita, come me, e sapete che è un evento abbastanza raro. Allora, potete immaginare, da sempre, l'eclissi di Luna è stato considerato presagio di sventura, perché immaginatevi, appunto, duemila anni fa, di provviso la Luna veniva oscurata in cielo, non si capiva che cosa stava succedendo, insomma, era un qualche cosa di strano. E la cosa interessante è che i romani hanno previsto, grazie al planetario di Archimede, di questi di Luna. E quindi il generale dei romani ha detto ai romani, dice attenzione, stanotte la Luna non ci sarà, e questo è il segno che gli dèi sono dalla nostra parte. Dall'altra parte i macedoni, invece, hanno visto un presagio di sventura, tutto questo per dirvi la battaglia di Pirna, anche grazie, una delle battaglie in cui per certi versi è stato usato un ordigno, non dico bellico perché non lo è, però ha dato, pensate, la battaglia di Pirna contava 40.000 macedoni contro 30.000 romani, e a termine della battaglia, 40.000 macedoni, 4.000 a cavallo, e contro 30.000 romani e 22 elefanti, e l'esito è stato, sono morti circa 20.000 macedoni, 11.000 sono stati fatti prigionieri, contro i circa 100 romani morti. E questo vi dà l'idea del fatto di come, diciamo, ovviamente vedere un'eclisi il giorno prima di una battaglia può incentivare o scoraggiare i combattenti. E tutto questo per dirvi che in effetti, quindi, l'uomo ha costruito macchine per fare, quindi sono calcoli, questa che vedete è la cosiddetta pascalina di Pascal, dal filosofo e matematico Pascal, che era una macchina per fare somma e sottrazione, mentre questa è una ricostruzione della, diciamo, della leggendaria macchina analitica, dicono leggendaria perché era stata progettata da Babbage, e... non vedete scorrere le slide? Scusate, vedo... ah, ok, perfetto, ok, ok, ecco, adesso dovreste... benissimo, grazie. E questa è la ricostruzione della macchina analitica di Babbage, che non è in realtà mai stata costruita, però è un esempio di come sarebbe potuta essere. Poi abbiamo altre macchine, la macchina Enigma, che veniva usata dai tedeschi per decifrare il codice, per, scusate, per cifrare le loro comunicazioni e mandarle in maniera sicura, e quello che succede è che questa macchina è stata poi decifrata da Alan Turing, che è uno dei nostri grandi protagonisti, è uno dei grandi protagonisti della storia dell'informatica, non solo per il suo ruolo nell'aver decifrato questa macchina, ma per il suo ruolo per aver inventato, per aver scritto un articolo che è stato pubblicato nei Proceedings della London Mathematica Society, ed è questo qui, questo articolo sui numeri computabili, sui numeri calcolabili e un'applicazione al, non so il tedesco, Enschlund Problem, non lo so dire, una collezione Alan Turing. Allora, che cos'era questo problema? Vi risparmio che cosa fosse il problema della fermata, ma Alan Turing essenzialmente mostra una cosa molto interessante, dice attenzione, noi fino adesso abbiamo fatto algoritmi, abbiamo costruito macchine per fare cose diverse, abbiamo visto macchine per costruire, per vedere la posizione, per prevedere la posizione degli astri nel cielo, macchine per fare le operazioni matematiche, macchine per cifrare e decifrare comunicazioni, Alan Turing dice, in questo articolo incidentalmente, per dimostrare una cosa non è possibile fare, crea una macchina universale, una macchina in grado di fare qualsiasi cosa, che non a caso è la parte teorica della macchina che oramai tutti quanti noi abbiamo, ovvero il computer o anche se preferite cellulare o i tablet su cui sto facendo la presentazione, cioè Alan Turing trova una cosa interessantissima, cioè possiamo costruire una macchina che chiamo universale, che è in grado di eseguire qualsiasi operazione, quindi io posso costruire un'unica macchina e usarla per prevedere la posizione degli astri nel cielo, per fare moltiplicazioni, per cifrare e decifrare, questa è una cosa che poi abbiamo visto nello scorso seminario e fare tante altre cose, e poi come sapete oggi la usiamo per tutto, per scrivere testi, correggere testi, vedere film in streaming, sentire musica, di tutto. Allora, se Alan Turing è conosciuto, ecco, e quindi siamo arrivati a questa, che è il primo computer, anzi quello che si riteniva il primo computer, perché poi pare in realtà a Bletchley Park, che è dove hanno decifrato il codice d'Enigma, avessero costruito già un primo computer, però la cosa era stata segretata dagli inglesi e si è scoperto solo in tempi recenti. La persona che vedete nella foto, invece, probabilmente non lo conoscete e non ha la fama che meriterebbe di avere, è Corrado Böhm, ed è un informatico italiano che ha avuto il pregio, all'estero è famosissimo, di fare, di scrivere il cosiddetto teorema di Böhm e Giacopini, curiosità, non vi ho fatto vedere la foto di Giacopini perché non esistono foto di Giacopini in giro, una cosa era particolarmente schifo e non ci sono foto di Giacopini pubbliche. Allora, cosa dice il teorema di Böhm e Giacopini, che sembra una cosa, lo so, vi sto spaventando dicendo teorema, dice in realtà una cosa molto facile, una cosa molto intuitiva, dice che se io voglio scrivere un algoritmo, qualsiasi algoritmo, lo posso fare usando semplicemente questi tre, diciamo, costrutti, che sono la sequenza, ovvero, la sequenza mi dice, fai prima un'istruzione, poi fai una seconda istruzione, poi fai la terza istruzione. L'alternativa, verifica una condizione, se fuori piove prendi l'ombrello, se non piove non prendere l'ombrello, quindi l'alternativa dice, guarda, se si sta verificando la condizione, se si verifica una condizione fai una cosa, se non si verifica fai un'altra e poi prosegui il flusso del... e infine la ripetizione, continua a fare qualche cosa, continua a eseguire delle istruzioni, esegui delle istruzioni, poi verifica una condizione, questa condizione si è verificata? No, allora continua a ripeterle e continua a fare questa cosa. Noi usando la sequenza, l'alternativa è la ripetizione, che sono tutte cose che se pensate usiamo quotidianamente nei nostri discorsi, se ti capita questo fai così, se ti capire quest'altro fai così, fai prima questo, poi quest'altro, poi quest'altro, oppure, è così, il cazzo di Francesco mi scrive if the nels, ovviamente io sto dicendo questo, ecco, la cosa interessante è che con queste, solo queste tre strutture, teorema e ben mi Jacopini, è possibile scrivere qualsiasi algoritmo nel mondo, qualsiasi algoritmo è possibile scriverlo con queste tre strutture. La cosa in realtà non ci dovrebbe sorprendere troppo, perché noi siamo già abituati che abbiamo 26 caratteri e se ci pensate con 26 caratteri più lo spazio e la punteggiatura possiamo scrivere qualsiasi romanzo che sia mai stato scritto. Quindi, diciamo, però magari questa parte algoritmica non l'avete vista. E quindi noi abbiamo questo, cioè abbiamo, si possono fare delle cose meravigliose con poco, perché in realtà mi servono solo questi tre costrutti, la sequenza alternativa alla ripetizione e in più che mi serve? La macchina universale, il computer, e ho una macchina che lo puoi eseguire. Tornando ad esempio della ricetta, è come se io vi dicessi che posso preparare qualsiasi piatto se vi date un coltello, una pentola e del fuoco. Questa è, diciamo, un pochettino il teorema di Bamiacopini, se fosse. Ecco, quindi questo vi dà l'idea e poi alla fine gli algoritmi non sono così complicati come li descriviamo, al punto che, e qui vi faccio vedere, io, diciamo, sono molto fiero di essere il presidente delle Olimpiadi Italiane di Informatica, che è una competizione per i ragazzi delle scuole superiori. Qui vedete un'immagine tratta da una finale delle Olimpiadi in cui i ragazzi stavano facendo la gara, e poi successivamente da questa finale, in realtà non da questa, ma dalla finale nazionale, prendiamo i migliori quattro ragazzi e li mandiamo a fare la gara delle internazionali. Qui vedete la squadra italiana e i quattro ragazzi che sono andati nel 2013 in Australia, mostro questa foto perché Federico Claudio è l'ultimo italiano ad aver vitto una medaglia d'oro alle Olimpiadi internazionali. E vi dico, sono ragazzi, ecco, per darvi un'idea di quello che si può fare al giorno d'oggi, allora Federico Claudio, nell'estate della sua maturità, nell'ordine, prima ha fatto la maturità, poi è andato in Australia a fare le Olimpiadi internazionali di informatica dove ha vinto la medaglia d'oro, poi è tornato a Roma, ha cambiato la valigia, è andato in Colombia e ha fatto le Olimpiadi internazionali di matematica, dove ha preso la medaglia d'argento, ma secondo me non tanto per il fatto che era completamente sballottato tra fusi orari e stanchezza. È tornato in Italia, ha fatto il test di ammissione alla normale di Pisa, è arrivato primo, dopodiché in due anni e mezzo si è laureato in matematica, in un altro anno e mezzo ha preso la specialistica, adesso sta facendo il dottorato a Zurigo. tutto questo per dirvi che in effetti anche ragazzi così giovani, quindi non mi serve il programmatore con 20 anni di esperienza, riescono a fare delle cose pazzesche, io ho conosciuto storie di ragazzi, allora vi faccio vedere questo, questo è Social Reviver, allora vi ricorderete, se avete usato i social network, che a un certo punto Facebook ha cambiato la sua interfaccia essenzialmente, è passato da quella che si chiama Bacheca al diario, viceversa dal diario al Bacheca, è un ragazzo di 15 anni, di latina che ho conosciuto, ha avuto questo, allora in tutto il mondo le persone hanno protestato, perché sapete quanto l'essere umano sia riottoso al cambiamento, e quello che è successo è che in realtà un ragazzo di 15 anni in latina ha avuto questa intuizione, dice vabbè ma Facebook tutto sommato ha cambiato l'interfaccia, ma alla fine le informazioni sono sempre le stesse, solo vengono messe in maniera diversa, allora dice sai che faccio? Scrivo un programma che mi rimette, prende le informazioni da Facebook e le mette come stavano prima, e ha scritto questo programma che si chiama Social Reviver, che tecnicamente è un plugin per i browser, e questo plugin, ecco qua, è stato installato complessivamente, la versione 4.4 è stata installata da un milione di utenti, complessivamente lui ha avuto più di 10 milioni di utenti per un suo programma, per un programma che lui ha scritto, 10 milioni di utenti per un ragazzo di 15 anni in latina, dove ovviamente non c'è niente di male di essere in latina, adesso non so se c'è qualcuno di latina, ma è solo per dire che non è la Silicon Valley, non è, scusate, una notifica che continua, ok, non è la Silicon Valley, non è, non sono gli Stati Uniti, non è il garage di Steve Jobs, ecco, un altro ragazzo dell'olimpia di informatica ha contribuito, ha scritto un pezzo di codice di Grand Theft Auto 5, o forse lo conoscete come GTA 5, che è il videogioco di maggior successo della storia, tenete presente che Grand Theft Auto 5 ha incassato circa 850 milioni di dollari, 850 milioni di dollari, nelle prime 24 ore in cui è stato messo in vendita, nella prima settimana ha superato un miliardo di dollari e questo lo mette sopra il film Avatar come, diciamo, evento multimediale di maggior successo, quindi, tenete presente, siamo arrivati in un momento in cui i videogiochi fanno più, eh, fanno più soldi del cinema, insomma, questo forse per noi è un po', per quelli della nostra generazione è un filino controintuitivo, e tutto questo perché? Perché siamo, diciamo, il mondo sta cambiando e siamo arrivati in un momento in cui, io qui scrivo una frase abbastanza famosa, data is the new oil, data is the new oil, ovvero i dati sono il nuovo petrolio, perché? Vi racconto un paio di storie, allora, conoscete Netflix, conoscete Netflix e sapete, ecco, Netflix nasce all'inizio come, c'è una storia abbastanza buffa, allora, voi vi ricorderete che, mh, 30 anni fa, se uno voleva vedere dei film, si andava a fittare una videocassetta in videoteca, quello che, e se uno portava la videocassetta o poi, un po' più tardi, il DVD lo restituiva in ritardo, quello che succedeva è che pagava una penale. Allora, l'ideatore di Netflix racconta che, dopo aver restituito un DVD con parecchio ritardo di aver pagato una grossa penale, gli è venuta l'idea di lanciare un servizio nuovo e innovativo. Il servizio era, dice, vabbè, ma anziché, diciamo, pagare per ogni giorno in cui io tengo un film, io faccio un abbonamento in cui io posso sempre tenere un film. Quando poi torno, lo scambio con un altro e tengo quest'altro film per tutto il tempo che voglio. Quando mi sono stufato di avere questo film a casa, vado e lo sostituisco con un altro e così via. E si poteva fare, e lanciò questo servizio via posta, quindi c'era un sito centralizzato, e c'era un sito centralizzato dove uno si registrava, pagava l'abbonamento, sceglieva se poteva un abbonamento da 1, 2 o 3 DVD, che era il numero di DVD che poteva tenere in contemporanea. Quindi, per esempio, se sceglieva 3 DVD, lui a quel punto andava sul sito e diceva, voglio i primi tre film di guerra estelari, li riceveva a casa, li teneva per tutto il tempo che voleva, e poi quando è, li poteva mandare indietro via posta, perché Netflix si mandava anche una busta in cui mettere il DVD e rispedirlo indietro. E a quel punto tornava sul sito di Netflix e scriveva, guarda, io ti ho rimandato indietro il DVD, quando ti torna mi mandi il primo film di Indiana Jones, grazie, questa è. E quindi è andato avanti così. Poi è passato allo streaming, poi è passato a produrre, a fare produzioni, e a fare produzioni perché all'inizio Netflix offria solo contenuti prodotti da altri, poi ha detto, vabbè, ma in effetti, siccome mi costa parecchio acquisire i diritti, perché non faccio una cosa contraria, sono io a prendere i diritti. E allora ha deciso di produrre serie TV. Se qualcuno si ricorda qual è stata la prima serie TV prodotta da Netflix, vediamo se qualcuno mi risponde e sa, qualche patito sa dirmi qual è la prima serie TV prodotta da Netflix. Vedo che qualcuno sta scrivendo. La Casa di Carta? No, in realtà la Casa di Carta è una produzione spagnola, l'hanno comprata. No, è poi molto prima. Scusate, io approfitto. No, prima, prima. Approfitto per bere un po' d'acqua. Quella dell'aereo? No, non so quale sia quella dell'aereo, vi do un indizio. Oh, brava, ecco, brava Alessandra e brava Francesca, House of Cards, esatto, questa. E la cosa interessante qual è? È che loro hanno fatto, quando hanno deciso di fare questa serie, lo hanno fatto con un'analisi di dati, tant'è vero che viene detto, si dice che House of Cards sia una serie figlia degli algoritmi. Perché figlia degli algoritmi? Perché, allora, su questo poi torniamo. Perché? Perché in realtà analizzando i dati in loro possesso, e vi ricordo che Netflix aveva tutta una serie di... Netflix aveva tutti i dati nel loro sistema centrale, avevano tutti i dati nel loro sistema centrale, nel loro sito, e quindi sapevano i gradimenti del pubblico. E quindi loro si sono accorti che c'erano tantissimi utenti a cui piacevano i film diretti da David Fincher, che è il regista di The Social Network, tantissimi utenti a cui piacevano i film con Cavi Spesi, parecchi utenti a cui era piaciuta una serie TV House of Cards, una serie TV inglese, e quindi in realtà quello che si sono accorti è che in pratica loro avrebbero potuto fare una serie in cui appunto il regista era David Fincher. L'attore protagonista era Gami Spesi, basato su House of Cards, e in questo modo loro si avrebbero raggiunto tutto questo target di pubblico. Perché quindi vi dico, allora, e su questa analisi dei dati hanno... su questa analisi dei dati hanno scommesso soldi. Vi sapete quanto è costato produrre House of Cards? No, è costato... allora, vi dico, vi faccio ridere, le prime puntate di The Games of Thrones, che è una serie in cui ci sono i draghi, ci sono tanti effetti speciali a produrre, costavano un milione di dollari a puntata, ma in realtà House of Cards è costata, la prima stagione è costata circa 100 milioni di dollari, nonostante nonostante sia una serie fatta solo da 13 episodi. Perché? Perché ovviamente il problema è che bisognava pagare i compensi agli attori, che erano tutti attori ben affermati, regista, erano tutte persone molto ben, diciamo, grandi professionisti, mentre in Games of Thrones ci sono tutti attori che hanno acquisito la loro popolarità grazie a Games of Thrones, ma non erano già famosi. E quindi in realtà, diciamo, si parla tanto dei big data, e su questo torneremo perché i big data ci interessano molto, sempre per rimanere in tema television, qualcuno mi sa dire da che film è tratta questa immagine, che è uno... e si parla del data scientist, lo scienziato dei dati, che è uno dei lavori più interessanti del ventunesimo secolo. Vi dico che di solito tutti quanti vanno... oh, bravo Vincenzo, un film su baseball, esattamente, Moneyball. Moneyball, ovvero in italiano è stato tradotto l'arte di vincere, che è un film molto interessante che racconta una storia vera, la storia di questo manager di squadra di baseball, interpretato da Brad Pitt, e lui in pratica racconta di... la storia vera è questa, che questo manager decide di disfarsi degli osservatori, i talent scout, quelli che conoscono, quelli che nel calcio sarebbero i vari Sabatini, Monci, Tare, Marotta e chi per loro, e prende un esperto in statistica, in questo caso interpretato John Hill, che analizza i pro e i contro dei giocatori e fa lui la campagna acquisti. Prende un lavorato in statistica di Harvard per fare la campagna acquisti. Il risultato è che fanno una campagna acquisti che gli costa circa un decimo di quello che ha speso quell'anno in New York Yankees, fanno il record di vittorie consecutive, e anche se non vincono la stagione, perché poi lì, diciamo, è un pochettino complesso il discorso sulle previsioni di eventi sportivi, però la cosa interessante è che il baseball in realtà, anche se viene considerato un gioco di squadra, anche se si gioca una squadra contro una squadra, in realtà la squadra è una somma di individui, nel senso che quello che lancia, lancia, quello che batte, batte, e più o meno sono questi, cioè non c'è la cosiddetta intesa che c'è in altri sport come il calcio, la pala canestro, la pala nuoto, in cui i giocatori si devono conoscere e fanno delle azioni manovrate. E quindi, grazie a questa analisi, loro hanno fatto, hanno avuto un grandissimo successo, non è vero che poi si è passati a analizzare altri sport, qui vedete una partita a caso, probabilmente ve la ricordete, a finale dei mondiali Italia-Francia, peraltro questo è un esempio interessante di visualizzazione delle informazioni, perché ogni giocatore è rappresentato da una sfera che è tanto più grande quante più volte quel giocatore ha toccato palla, e per ogni coppia di giocatori c'è un arco, una freccia, che rappresenta quante volte un dato giocatore, in questo caso D'Ambrotta, ha passato la palla a un altro giocatore. Tanto più spessa la freccia, maggiore il numero di passaggi. Notate che a colpo d'occhio, da questa visualizzazione, si grazie a teoria dei grafi, da questa visualizzazione noi possiamo vedere, possiamo vedere un po' di cose, possiamo vedere che il gioco d'Italia si è sviluppato prevalentemente sulla destra, che nel complesso la Francia ha decisamente toccato palla molto più dell'Italia, e in realtà questa visualizzazione ha un difetto, manca l'arco probabilmente fondamentale, che è quello che va da Zidane a Materazzi, però quello è un altro discorso, insomma, ecco. E niente, e quindi, questo è, sono campi in cui si, diciamo, si sta investigando, e ci sono tanti studi adesso sui analytics. Tutto questo per dirvi che questo è, questa schermata che vedete, è una schermata del 2020, se non riuscite a vedere niente, non vi preoccupate, perché, ahimè, diciamo, ogni piccola icona che vedete è un prodotto che si occupa di fare qualche cosa nel campo dei big data, quindi vedete, qui c'è la parte di infrastruttura, poi analytics e machine intelligence, data analisi platform, qui c'è machine learning, data science platform, qui sotto c'è la parte di open source, chiaramente, e notate che ognuno di questi è un mondo, nel senso che questo che inquadro qui, TensorFlow, per chi fa reti neurali, insomma, è una cosa importante. OpenAI, che vedete qui, come uno degli, guardate quanti sono, eh, openAI è la famosa, famigerata, ecco, grazie Nicola, è quella che ha fatto chat GPT, quindi insomma, diciamo che lo scenario dei dati e dell'intelligenza artificiale è estremamente variegato. E quindi, e quindi niente, allora, a questo punto vediamo un pochettino perché ci interessano queste cose, perché noi stiamo cercando di capire come prendere decisioni. Allora, concludo questa parte, diciamo, prima di passare all'intelligenza artificiale, concludo facendovi vedere che la, che essenzialmente la, questo è un linguaggio di programmazione per bambini, un linguaggio grafico che viene usato per elementari, già ad elementari, in cui essenzialmente si usano questi elementi grafici per, per fare, per scrivere codice. E si possono fare tante altre cose, adesso si parla di Internet of Things, che sono dei dispositivi controllati, questo è un microprocessore, abbiamo computer sempre più piccoli, ci consentono un controllo, ci consentono di avere e accumulare dati in maniera sempre maggiore. E questo è un problema interessante, perché? Perché tenete presente una cosa, qui stampa 3D, quindi possiamo creare degli oggetti. Allora, prima di parlare dell'intelligenza artificiale, un attimo di parentesi per ricordarvi una cosa, che adesso essenzialmente notate che la statistica, e poi torneremo su questa parte, nella parte finale, la statistica è un, è nata per il fatto, è nata per superare un'esigenza, un'esigenza che, diciamo, tendenzialmente i governi volevano avere un'idea di quello che succedeva nella nazione, non potevano chiedere informazioni a ogni singolo abitante, e allora quello che si faceva è che si usava un campione di individui e da quello poi si disumevano alcune caratteristiche. Notate che noi adesso siamo in un momento in cui, per certi versi, abbiamo tantissimi dati e anche le nostre scelte politiche, e su questo andiamo dopo la parte dell'intelligenza artificiale, sono scelte che possono essere, che sono molto più informate, cioè, mentre se io prima, se 50 anni fa decidevo di aprire una scuola in un punto, potevo più o meno stimare sulla base delle persone, della popolosità della zona, quanto quella scuola sarebbe stata frequentata, adesso noi possiamo decidere se costruiamo una zona, possiamo prevedere quasi, con una precisione di unità, quanti saranno i ragazzi che ci si scriveranno. E infatti adesso, Lucia, adesso ci arriviamo, il problema vero è esattamente questo, cioè, noi, allora, gli algoritmi che vi ho fatto vedere adesso servono a prendere decisioni, gli algoritmi mappano il nostro modo di prendere decisioni. Adesso andiamo avanti, adesso passo a quella che è l'intelligenza artificiale, che è l'altro grande, l'altro grande player che si sta diffondendo in questi giorni, tra l'altro sapete tutta la polemica sul chat GPT e quant'altro. Giaduca chiede se il chat GPT può essere uno strumento utile e valido per il PA e le aziende o è un rischio. Ci arriviamo fra un poco, perché prima vi vorrei spiegare come funziona. Allora, vi faccio vedere un piccolo escursus dei progressi dell'intelligenza artificiale degli ultimi anni. Allora, vi ricorderete probabilmente questa immagine, che è un'immagine del 97. Qualcuno si ricorda che cos'è? Qualcuno sta scrivendo. Kasparov, esattamente, Kasparov che perde a scacchi contro una cosiddetta intelligenza artificiale fatta da IBM. Allora, questo... vi dico cosiddetta perché poi adesso investigheremo. Allora, piccolo salto di una ventina di anni in avanti, dopo che Kasparov perde, rimane un unico gioco in cui l'uomo è ancora superiore al computer. Questo gioco è il Go, che è questo gioco che vedete, forse avete visto nel film Beautiful Mind. A un certo punto però, una società fatta da Google, una società di proprietà di Google, che si chiama Deep Mind, inizia a sviluppare un programma per giocare a Go. Loro, prima sfidano il campione europeo, che è questo ragazzo che si chiama Fanui, che è il campione europeo, lo battono e notate, lui entra quasi in depressione perché proprio per il fatto che nel Go, il Go è un gioco molto semplice, perché a differenza degli scacchi, l'unica cosa che bisogna fare nel Go è mettere le pedine su questa scacchiera che in realtà si chiama Goban. E lo scopo del gioco è quello di circondare l'avversario, quindi vedete che ci sono delle trame in cui il nero qui sta cercando di circondare il bianco, però al tempo stesso il bianco sta cercando di circondare il nero. E essenzialmente alla fine della partita, quando sono state boggiate tutte le pedine, si contano il numero di pedine che voi avete circondato dell'avversario e per ognuna di quelle prendete un punto, l'avversario conta ognuna delle vostre pedine che ha circondato e per ognuna di quelle prende un punto, chi ha più punti vince. Come vedete è un gioco apparentemente semplice, ma il problema è che la scacchiera è molto grande. E il numero di configurazione valide a Go è maggiore del numero di atomi dell'universo, quindi è oggettivamente complicato scrivere un programma che analizzi la situazione come si fanno gli scacchi. E quindi Google ha realizzato un programma, il campione europeo è andato a giocare contro questo programma, si aspettava di vincere facilmente, invece è abbattuto, è entrato quasi in depressione e quelli di Google se ne sono accorto e a quel punto lo hanno coinvolto nel progetto, gli hanno detto no, vieni a lavorare per noi, ci servi. E lui ha risposto candidamente, ha detto scusate ma come faccio a servirvi, il vostro programma mi ha abbattuto. E loro altrettanto candidamente gli hanno risposto, nessuno di noi sa giocare a Go. Loro avevamo creato un programma in grado di battere il campione europeo, ma nessuno di loro sapeva giocare a Go. Perché? Perché avevamo creato un sistema di machine learning o deep learning, adesso vedremo che cos'è. Su questo sistema poi ha battuto il, questo è l'Isidol, il coreano Isidol, che non era il numero uno perché il numero uno del mondo che G non voleva giocare contro questo programma, per darvi un'idea di quanto sia importante il Go nei paesi orientali, due giorni dopo il Isidol coreano è stato battuto da AlphaGo, la Corea ha deciso di investire un miliardo di euro per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in Corea. Questo per dare un'idea, ecco. E alla fine ha battuto anche KG, la cosa interessante è che lo aveva battuto prima in delle partite online, in cui però erano diciamo delle amichevoli e addirittura non si sapeva che era su una piattaforma di allenamento dove i grandi maestri giocavano tra di loro, ed era arrivato un nuovo giocatore che aveva giocato 60 partite ed aveva vinte tutte. E poi Google aveva rivelato che questo giocatore che aveva vinto tutte le 60 partite era la loro intelligenza artificiale, questo che si chiama AlphaGo. Aveva anche vinto tre partite contro KG, hanno organizzato l'evento, hanno organizzato una sfida e qui si arriva alla parte, vi direi, quasi tragicomica, perché da Cina all'inizio ha trasmesso in diretta la sfida fra KG e l'intelligenza artificiale americana. Poi a metà dell'evento si sono accorti che KG stava per perdere e quindi non solo hanno sospeso la diretta dell'evento ma hanno proibito in tutta la Cina di parlare dell'evento. Per i giornalisti stranieri in realtà che hanno assistito hanno potuto chiedere a KG perché aveva perso e lui ha risposto, dice, quando ci avevo giocato mesi fa, l'intelligenza artificiale era forte ma era a livello umano, la potevo battere, in realtà adesso ci ho giocato contro il dio del go, dice, era impossibile da battere. E la cosa interessante è che lui aveva dichiarato, dopo che ci aveva giocato online, prima di questa sfida, aveva dichiarato, dice, ci ho giocato contro, sono in grado di batterla, posso batterla. E la parte interessante è stata, quelli di Google si sono spaventati e hanno usato, diciamo, per migliorare la loro intelligenza artificiale hanno usato un trucco che risale, questo è un altro film che forse vi ricorderete, a Wargames, hanno usato un trucco di Wargames, cioè a quelli di Google per vedere, siccome vi ho detto, è un nuovo tipo di intelligenza che impara, cioè noi non gli dobbiamo più dare delle istruzioni negli algoritmi, gli dico, fai questo, altrimenti fai quest'altro, se succede questo, continua a fare questo finché le cose che dicevamo dire, però, ecco, diciamo, quindi quello che succede è che la macchina impara, la macchina aveva già imparato da tutti i grandi maestri umani, dove hanno trovato nuove partite, grazie Luca, esattamente, non hanno fatto giocare contro se stesso, era la stessa idea usata in Wargames, in cui poi alla fine si concludeva dicendo, ciao, questo è un gioco strano, l'unica mostra vincente è quella di non giocare, e allora, quindi, la cosa interessante, scusami tutto, ecco qua, la cosa interessante quindi qual è, è che noi, vabbè, a parte come i media, la differenza fra questi due eventi, che per certi versi ci sembrano identici, nel senso del 97 Kasparov ha perso a scacchi, e vent'anni dopo lui ha perso a Gov, vabbè, è cambiato il gioco, però non è, ci si vede troppo, in realtà c'è una differenza abissale, perché? Perché Kasparov ha perso contro un programma che era stato fatto usando algoritmi tradizionali, cioè, usando tutto il distillato del sapere umano, cioè, chi aveva sviluppato il programma di IBM si era preso tutti i manuali di scacchi, e aveva imparato tutte le tecniche di scacchi, avevamo fatto tutto quanto, avevamo consultato gli esperti, e avevamo creato un distillato, cioè, il programma era un programma che giocava, ma in realtà era solo la trasposizione automatizzata di tutto il sapere umano sugli scacchi. D'altra parte avevamo una simulazione del cervello, e poi vedremo come funziona in dettaglio. La cosa inquietante è che AlphaGo, a quel punto, quelli di Google hanno fatto un esperimento, hanno detto, vabbè, ma se lo possiamo far giocare contro se stesso, ci servono veramente le persone umane, le partite dei grandi maestri umani? E lo hanno fatto giocare contro se stesso, hanno fatto una versione che si chiama AlphaGo Zero, che gioca, che impara solo giocando contro se stessa, e quindi hanno dato le regole, la facevano fare delle partite, poi dicevano, guarda dei partiti e impara, poi facevano rigiocare, poi lo facevano imparare, giocava, imparava, giocava, imparava, e quello che è successo è che questa versione, che ha imparato solo da se stesso, ha battuto 100 a 0 la versione che aveva battuto di Sido, il coreano di cui vi ho parlato prima, e ha battuto 89 a 11 la versione che aveva giocato contro, che aveva battuto Keiji. Quindi in un certo senso sembra aver usato un po' di umanità abbia peggiorato le prestazioni. La cosa inquietante è che a quel punto hanno detto, vabbè, ma se non ci servono le partite, gli possiamo far fare qualsiasi gioco. hanno fatto una versione che si chiama AlphaZero, che gioca a scacchi, l'hanno fatta combattere contro Stockfish, Stockfish è il programma di scacchi che è campione del mondo, il diretto discendente dell'intelligenza artificiale di Google, e Stockfish ha perso. La cosa inquietante è che AlphaZero ha imparato a giocare a scacchi in solo 4 ore, quindi noi abbiamo avuto, da un lato abbiamo avuto, da un lato abbiamo avuto, come posso dire, decine di anni di sviluppo di tutto il distillato umano degli scacchi condensato con i tecnici IBM nel programma che ha battuto Kasparov, che poi è stato ulteriormente migliorato e è diventato Stockfish. Dall'altro abbiamo avuto AlphaZero che imitando il cervello umano in solo 4 ore ha imparato a giocare a scacchi e ha battuto Stockfish. Altri risultati, l'intelligenza artificiale ha battuto, questa è una notizia del 2019, un'intelligenza artificiale ha giocato a poker e ha battuto dei campioni del mondo di poker e questo ci dovrebbe inquietare un pochettino perché nel poker c'è il blef e quindi il blef che cos'è? È l'inganno, quindi abbiamo un'intelligenza artificiale che è riuscita a ingannare gli umani e a non essere ingannata agli umani. E se questo non vi spaventa, ecco, vi ricordate Tom Cruise in Top Gun e recentemente nel 2020 l'agenzia DARPA, che è il nuovo nome dell'agenzia DARPA, che è l'Advanced Research Project Agency, che è quella che ha lanciato ARPANET, ovvero Internet, essenzialmente l'agenzia del Ministero della Difesa americano che si occupa dei progetti di ricerca avanzato, ha fatto un torneo per intelligenza artificiale e piloti di caccia. Questo torneo è stato vinto da un'intelligenza artificiale fatta insieme da Facebook, che adesso si chiama Meta, e contro Facebook e l'Università Carnegie Mellon, e poi l'intelligenza artificiale che ha vinto il torneo fra intelligenze artificiali ha giocato contro un Top Gun in carne e ossa, per fortuna solo all'interno di un simulatore, dico per fortuna perché il Top Gun in carne e ossa è stato abbattuto tutte le volte. Quindi adesso, diciamo, essenzialmente abbiamo un'intelligenza... Ecco, se vi preoccupava chat GPT, sappiate che gli Stati Uniti hanno un'intelligenza artificiale in grado di manovrare gli F-16 meglio di come Tom Cruise pilota gli F-14 in Top Gun. Ecco, e quindi, diciamo, come funzionano queste reti neurali? E riescono a imitare il cervello umano? In realtà sono proprio delle simulazioni del cervello umano, e non solo sono delle simulazioni del cervello umano, ma vi dico, sono delle simulazioni... ma un computer può simulare il cervello umano? Beh, vi direi che forse non serve neanche scomodare il cervello umano, perché ci sono delle cose... ecco, qui riconoscete l'artista, vedo che qualcuno scrive Van Gogh e... l'altro dovrebbe essere... vediamo se qualcuno... no, non è Meggiorney, ma quando vi dico una cosa interessante, secondo voi un piccione è in grado di distinguere un dipinto di Van Gogh da un dipinto di un altro pittore? Un piccione? Quindi non sto parlando di un uomo, un piccione. Ecco, la cosa divertente è che, per dirvi che forse per le intelligenze artificiali non ci serve arrivare al livello di un umano, ma ci basta simulare il cervello di un piccione. C'è stato un esperimento fatto da questo giapponese, Watanabe, nel 1995, che ha messo i piccioni, questa in gergo tecnico si chiama Skinner Box, che è una camera, essenzialmente una sorta di gabbie, priva di altre informazioni sensoriali, se non quello che vedono, e loro vedevano i dipinti di due artisti diversi, Chagall e Van Gogh, e venivano ricompensati se beccavano il vetro in presenza di un artista specifico. Quindi la regola del gioco era, se vedi un dipinto di Van Gogh e becchi sul vetro, prendi il mancime. Se vedi un dipinto di Chagall e non becchi sul vetro, prendi il regime. La cosa sorprendente è che sui dipinti su cui erano stati addistrati, quindi sui dipinti che già avevano visto, i piccioni sbagliavano il 5% delle volte. Ma su dipinti nuovi, cioè su nuovi mai dipinti, mai visti dipinti che i piccioni non avevano mai visto, dei dipinti di Chagall e Van Gogh, sbagliavano il 15%, quindi su 20 dipinti loro ne indovinavano 17. Quindi i piccioni devono aver imparato qualcosa, non solo memorizzato. Quindi questa è l'idea alla base delle reti neurali. Come funzionano le reti neurali? Adesso il tempo scarseggia e vorrei arrivare alla parte in cui come caratterizzare le decisioni. E quindi essenzialmente noi abbiamo il neurone biologico che si attiva sulla base dei collegamenti con gli altri neuroni. E questa cosa noi abbiamo circa 10 alla 14, 10 alla 15 sinapsi e circa 86 miliardi di neuroni del cervello. E il neurone artificiale che cos'è? Non è nient'altro che un, lo potete pensare come una cellula di Excel che fa una sommatoria di altre cellule di Excel che gli sono vicine e fa la somma di tutte queste usando dei pesi, usando quindi dei weight. se tutti questi pesi sono maggiori di una certa soglia, il neurone si accende. Se i pesi non sono inferiori, il neurone non si accende. Detto così non sembra una cosa particolarmente sofisticata, noi però lo possiamo usare per fare compiti che non avremmo mai pensato di affidare al computer. Per esempio distinguere foto dei cani da foto dei gatti o prima qualcuno, come Luisa citava Midjourney, cioè fare dipinti, ecco qua. E questo è un problema più semplice, un problema di riconoscimento di cifre. Queste sono cifre scritte a mano, come posso scrivere io, ecco, e vogliamo convertirle nella cifra digitale corrispondente. Per questo, quindi noi abbiamo un umano che scrive un qualcosa e vogliamo dire che l'umano ha scritto una cifra ed esattamente era 8. Per questa cosa si usa una rete neurale, quindi quello che succede è che noi, nella realtà, convertiamo prima la rappresentazione grafica della cifra in una mappa di scale di grigio, dove ogni celletta mi dà l'intensità, e poi ognuno di questi elementi, ognuno di questi elementi corrisponde a, ognuno di questi elementi corrisponde a un neurone della nostra rete neurale, il primo livello. Quindi, e questa è la struttura della rete neurale. Quindi, quello che succede è che quando sentite, ecco, Riccardo dice si è addestrato correttamente. Che cosa vuol dire addestrare una rete neurale? Addestrare una rete neurale vuol dire scrivere dei numeri su ognuno di questi archi che vedete, io su uno scriverò 7, su un altro scriverò 12, sull'altro scrivo 13 e così via, in maniera tale che quando io do in ingresso qui qualche cosa, faccio tutte queste somme, quindi l'immagine, questa viene trascritta nei singoli neuroni che sono questi. Dopodiché questo neurone fa la somma pesata di tutta una serie di neuroni e fa la somma pesata dove questi sono i pesi, quindi l'addestrare metodo è trovare i pesi e poi alla fine la rete neurale trova il risultato. Quindi, quindi notate, e qui siamo arrivati al punto cruciale, prendere decisioni sia se usiamo algoritmi tradizionali, spieghiamo noi al computer cosa fare, sia se usiamo le reti neurali, diamo al computer gli esempi, siamo noi a prendere le decisioni. Il computer si limita a obbedire a quello che gli abbiamo detto fare, oppure a quello che gli abbiamo mostrato come fare, e qui arriviamo al punto che ci interessa, al punto politico della prendere decisioni informali e decisioni informali. Allora, innanzitutto notate che anche qui, come in tantissimi campi dell'intelletto umano, esiste una teoria delle decisioni informali, che ecco per esempio questo è l'articolo classico, il Tutorial Interaction to Decision Theory, che è una cosa carina, questo è un articolo del 68, è molto carino, viene introdotta con il cosiddetto problema dell'anniversario, che fra l'altro è un problema che oggi verrebbe considerato, non so se sia politica di Corret, però l'idea è questa, il marito sta al lavoro e a un certo punto ha un dubbio, non si ricorda se è l'anniversario di nozze, e quindi lui ha due scelte che gli si fa davanti, comprare fiori o non comprare fiori. Chiaramente ci sono due possibili alternative, è l'anniversario di nozze, e quindi servono i fiori, oppure non è l'anniversario di nozze. Allora notate che cosa succede? Se è l'anniversario di nozze e il marito compra i fiori, tutto a posto, ottima, è andato tutto bene. Se non è l'anniversario di nozze e non comprare fiori, è lo status quo, quindi tutto a posto, e poi i problemi sono in queste due cellule, cioè non era l'anniversario e hai comprato i fiori? La cosa è sospetta, perché tu hai speso soldi e la moglie è diventata sospettosa perché hai fatto un regalo immotivato. Oppure, peggio ancora, non compri fiori, ma è l'anniversario, e quindi la moglie è in lacrime e quindi... Questo veniva formalmente trattato nella teoria delle decisioni, con questa sorta di albero decisionale, e diciamo essenzialmente quello che si fa è che poi uno associa dei pesi, delle probabilità agli eventi, e sulla base di questo, e degli outcome, però, diciamo, la teoria delle decisioni ci interessa fino ad un certo punto, perché il vero problema è che noi spesso abbiamo a che fare con dei veri e propri dilemmi. Considerate adesso le famose auto a guida autonoma, cioè il cosiddetto dilemma del passeggino, cioè mentre stai andando, un'auto a guida autonoma sta andando, e a un certo punto una madre che spinge un passeggino si mette in mezzo alla strada, l'unica scelta, le scelte possibili che può fare la macchina sono investire madre e passeggino, oppure, diciamo, andare fuori strada uccidendo il passeggero. C'è il cosiddetto dilemma dei motociclisti, che per certi versi è ancora più... è ancora più... problematico, perché dice, mentre voi state andando in macchina, mentre la vostra auto a guida autonoma sta andando, si trova un motociclista senza casco contro mano, e la scelta è quindi se andare, se prendere il motociclista senza casco contro mano, oppure invadere l'altra corsia e prendere un motociclista, sempre, diciamo, in quel caso frontalmente, che ha il casco e sta nella sua corsia. Qual è la differenza? È che in un caso, diciamo, il problema del motociclista contro mano senza casco è che non ha il casco, e quindi molto probabilmente lui, diciamo, morirebbe se preso. Mentre l'altro, che però notate bene, è rispettoso della legge e guida dal suo lato della strada, ha il casco, e quindi potrebbe farcela. Quindi la domanda è, dobbiamo... cosa dovremmo fare? E vedete, questi sono dilemmi, e in realtà, diciamo, su questi dilemmi, poi torneremo sull'ultima slide, quindi sono dei problemi. E allora qui arrivo sul problema della semplificazione, perché spesso noi... allora notate, da quello che, diciamo, che sto cercando... ecco, l'ultimo quarto d'ora, quindi siamo assolutamente nella tempissi. Allora, che cosa sta succedendo? Come vi ho detto prima, noi abbiamo... no, scusa, questi sono... noi abbiamo... ecco qua. Abbiamo, da un lato, siamo costretti a prendere decisioni, nella semplificazione, nella... siamo, diciamo, siamo... ci troviamo costretti in qualche modo a prendere decisioni, e le decisioni... semplificare vuol dire affidarsi a un sistema automatizzato. Questo sistema automatizzato lo possiamo programmare in due modi. Dandogli indicazioni chiare, oppure mostrandogli degli esempi e dicendo impara dagli esempi. In entrambi i casi, però, siamo noi che prendiamo decisioni. E a questo punto vi dico, questo è il vero grande problema della semplificazione, che siamo sempre noi, comunque, a dover decidere. Allora, vi faccio vedere questo, un esempio interessante del... è un articolo interessante del Meet Technology Review, che dice, puoi fare un'intelligenza artificiale più equa di un giudice? Allora, i dati sono i seguenti, dovete... voi siete il giudice e dovete decidere, sulla base delle informazioni preliminari del processo, avete visto negli Stati Uniti più meno come funziona, se rilasciare un imputato in attesa del processo oppure incarcerarlo. Allora, la cosa, uno qui è molto carino perché c'è tutto l'esempio dei dati. Allora, questi sono tutti... all'inizio tutti i candidati vengono rappresentati con un pallino. Dopodiché, però, facciamo una cosa, dice, uno ha degli indicatori e ha un sistema, ha sviluppato un po' di esperienza, e scopre che esiste questo sistema che si chiama COMPAS, che assegna a ogni imputato una certa probabilità di scappare. Quindi, tenete presente, uno vuol dire che ha il 10% che debba... che venga... che l'imputato scappi e che sia colpevole, 10 è una possibilità del 100%. Quindi, sono considerazioni statistiche. Uno dice, vabbè, guarda, io... voi siete il giudice, ricordatevi. Il problema qual è? È che io, come giudice, posso decidere qual è la soglia sulla quale posso... capite? Il problema è decidere su quale soglia, dice, questi li rilascio, quelli a sinistra li rilascio, questi a destra li metto in carcere preventivo. Il problema è che, ovviamente, qual è lo scopo del gioco, della decisione politica, della decisione, è, ovviamente, non vogliamo che un innocente vada in galera, non vogliamo rilasciare uno colpevole. Allora, quello che succede, ecco, questa è... questa non è un'immagine. L'immagine interessante è questa. Allora, quello che vedete è quello che poi è successo nella storia. Quello che vedete è i padini rossi pieni sono quelli che sono stati riarrestati e i padini bianchi, non pieni, sono quelli che non sono stati riarrestati. Allora, vedete che, comunque, comunque io metto la soglia, c'ho un problema di accuratezza che io ho, perché? Perché il problema è che il sistema non è... allora, il sistema ha degli errori e Giorgio Desiderio dice, giustamente, dipende dalla modalità dell'adressamento possibile. Chiaramente ci sono delle... ci sono... potremmo avere dei sistemi più accurati, però in realtà ci sono anche delle decisioni che poi dipendono dai eventi successivi. Per esempio, un sistema simile viene usato per decidere se dare un prestito oppure meno, poi però, diciamo, magari arrivai il Covid e scopri che tanti che avevano ottenuto il prestito in maniera, diciamo, erano considerati affidabili, poi a causa del Covid non sono stati in grado di rientrare nel prestito. Il vero grande problema è che poi, ecco qua, ci abbiamo un problema sul... sia sull'accuratezza di quante le gestiamo. Vedete, non esiste un punto in cui... io qui faccio due errori. In alcuni casi rilascio persone, ma queste vengono riarrestate, in altri casi ho delle persone che sono state ingiustamente arrestate. E la cosa peggiora, qui la cosa diventa molto interessante, se divido in bianchi e neri, perché sapete c'è il problema della giustizia negli Stati Uniti, i neri, diciamo, tipicamente sono... diciamo, ecco, i neri vengono arrestati più spesso, qui vedete anche i casi. Notate che a questo punto se io inizio a discriminare fra... dove discriminare vuol dire cercare di costruire un sistema più accurato, comunque non ho delle... non riesco a trovare dei numeri, delle soglie in cui io riesco a essere equo, perché a seconda è come sposto le soglie, complessivamente faccio degli errori. Allora, quindi, tutto questo per dirvi che... e qui passerei a questo punto la parola a voi, ecco qua. Diciamo, il problema è che noi dobbiamo... diamo delle soglie, ci sono delle decisioni in cui comunque noi dobbiamo prendere... appunto, le decisioni alla infine, sia se usiamo gli algoritmi classici, sia se usiamo l'intelligenza artificiale, quando parliamo di semplificazione, la semplificazione non può prescindere da che cosa? Da un'automatizzazione del sistema. L'automatizzazione del sistema dipende, la possiamo fare in due modi, come vi ho detto, algoritmi o intelligenza artificiale, ma in entrambi i casi siamo noi che prendiamo decisioni. Il problema di noi che prendiamo decisioni è che dobbiamo prendere delle decisioni e spesso sono delle decisioni politiche, sono delle scelte che, diciamo, purtroppo lasceranno qualcuno scontento e faranno delle ingiustizie, ecco. Questa è una cosa che dobbiamo tenere presente. La... lo scenario invece di cui si parla, ovvero la singolarità, questo lo vedete negli immagini di Ray Kurzweil, che è il cosiddetto profeta della singolarità, la singolarità è il momento in cui l'intelligenza artificiale prende coscienza di sé, diventa più intelligente gli uomini e decide di sterminare la razza umana, se volete lo scenario terminator. La... perché vi dico, diciamo, quindi in questo momento in realtà noi, la vera chat GPT di questa... Veronica Carfor, ecco qua, chat GPT, scusate, allora andiamo con ordine, grazie Veronica, allora Gianluca mi dice, chat GPT può essere uno strumento utile e valido per le PIA, ed è un rischio? è sicuramente, secondo me, è sicuramente uno strumento utile, ma è uno strumento utile se usato, come si dice, con grano Salis. Nel senso che, così come noi abbiamo imparato a usare le calcolatrici, ma sappiamo fare conti, e quindi, indipendentemente dall'uso della calcolatrice o del file Excel, abbiamo un qualche cosa, uno spirito critico che ci dice, attenzione, dimmi se sto andando bene o sto andando male, questo è il punto che stiamo facendo. Il problema è che chat GPT è formidabile se lo usiamo per farci fare, secondo me è un'opinione personale, per farci dare una bozza di quello che deve essere fatto, e poi noi rivediamo questa bozza. Veronica Carfor mi dice, a questo punto dai rischia di enfatizzare l'errore umano senza meccanismi correttivi? Assolutamente sì. Allora, attenzione, no, c'è una cosa, c'è un campo in cui l'intelligenza artificiale può essere più precisa, e vi faccio dire che ci sono dei campi particolari in cui l'intelligenza artificiale è indiscutibilmente meglio dell'uomo, e qui cito un esempio calcistico, allora, l'esempio calcistico è il fuorigioco, allora, sapete come funziona il fuorigioco? Allora, essenzialmente noi abbiamo il campo da calcio, abbiamo l'area, abbiamo un attaccante che è più o meno in linea con un difensore, e qui abbiamo un altro giocatore della stessa squadra che sta per passargli la palla, per lanciarlo. Qual è il problema? Qui c'è il guardaline. Allora, perché vi faccio questo esempio? Perché vi dico, in realtà, il guardaline è un mestiere impossibile. Perché è impossibile? È impossibile fisicamente, perché il guardaline deve decidere se guarda, il guardaline deve decidere, deve decidere se guarda se il giocatore è in linea, o se guarda l'istante in cui viene lanciata la palla. Allora, qual è il problema? Il guardaline non può guardare da entrambe le parti, perché, per sapere, è fisicamente impossibile. Allora, cosa fanno tutti i guardaline nella storia? Adesso arrivo anche a Lucia Perranti e dice, in campo elico, il medico potrebbe essere utile. I guardaline storicamente fanno questa operazione, guardano la linea e utilizzano l'udito per sentire il rumore di quando la palla viene calciata. Quindi, sento che la palla è stata calciata, guardo la linea, ok, è fuori gioco, oppure no, non è fuori gioco. Piccolo problema, la fisica. Il suono si sposta a 300 metri al secondo. Se il giocatore lancia la palla a dista e può distare facilmente 30 metri dal guardaline, il guardaline percepisce il suono con un decimo di secondo di ritardo e in un decimo di secondo l'attaccante può percorrere anche due metri. Quindi, diciamo, questo è un campo in cui usare un'intelligenza artificiale migliora semplicemente perché possiamo usare più occhi di quanti abbia un essere umano. Lucia mi chiede, in campo medico potrebbe essere utile? Sì, assolutamente sì, anche se, e qui cito, mi attacco alla domanda di Veronica che chiede, a questo punto l'intelligenza artificiale rischia enfatizzare l'errore umano senza meccanismi correttivi? Sì e no, perché vi dico, sapete che è stato dimostrato Kahneman e Tversky che hanno vinto un premio Nobel, anche l'uomo ha dei bias cognitivi e tende a fare errori. E Kahneman recentemente ha scritto un libro, Rumore, molto interessante, in cui ha fatto vedere una cosa che per certi versi ci dovrebbe inquietare. Ha fatto vedere che hanno fatto vedere delle lastre a dei radiologi, le stesse lastre a radiologi diversi e radiologi diversi hanno dato essenzialmente dei referti diversi associati a queste lastre. Quindi la stessa lastra, radiologi diversi vedevano cose diverse e vi direi, su questa cosa potremmo anche, diciamo, potrebbe non stuperci troppo. Il problema è che a distanza, hanno fatto questo ulteriore esperimento, a distanza di sei mesi, allo stesso radiologo hanno fatto rivedere la stessa lastra e il radiologo ha dato un referto diverso rispetto a quello che aveva dato sei mesi prima. Quindi, diciamo, in un certo senso il vero problema è che l'errore è anche connaturato nell'uomo. Quindi sì, il problema vero è che, secondo me, rimane utopico riuscire a pensare di avere un'intelligenza artificiale in grado di... priva di errori. Perché in realtà su tantissime decisioni umane non ci sono... su tantissime decisioni umane l'errore è intrinseco nel processo decisionale e fra l'altro ci sono anche sui tanti dilemmi etici, quello che vi ho detto prima, il dilemma del passeggino, il dilemma delle motociclette. Riccardo Scano dice con l'intelligenza artificiale etica. Allora, l'intelligenza artificiale etica, personalmente, è un problema... c'è un problema che in realtà noi etiche... le persone non concordano sull'etica. C'è un bellissimo lavoro fatto da dei ricercatori che si chiama The Moral Machine. Praticamente loro hanno automatizzato... da cui ho preso questa immagine del... questa immagine, scusate, questa qui... questa del self-driving. Praticamente è stato preso un articolo che si chiama The Moral Machine. Hanno interpretato più di 10 milioni di persone ponendo gli scenari diversi. In questo caso erano tre anziani con bastone che camminano attraversando la strada e le persone nella macchina sono due persone di mezza età e un bambino. e quindi l'idea è che se la macchina guida autonoma va dritta muoiono i tre anziani. Se la macchina autonoma devia muoiono due adulti e un bambino. Il problema è che noi non concordiamo su quello che eticamente sarebbe giusto fare oppure no. E quindi se noi siamo i primi a non concordare è difficile poi riuscire a costruire un sistema che tutti quanti accettiamo. Questo è il problema di fondo. Noi non abbiamo una... Allora, sarebbe bello, come diceva Socrate, e cosa è bene Fedro e cosa è male, dobbiamo forse chiederlo ad altri. Però in realtà noi abbiamo... Raffaele Viola mi domanda, per l'intelligenza artificiale non si possono implementare dei precetti come quelli che fece Isaac Asimov per le leggi della robotica? Sì. Allora, vi ricordo le leggi della robotica. Legge 1. Nessun robot può fare danni a un essere umano. Legge 2. Allora, diciamo, vanno in ordine. Nessun robot può fare danni... Aspettate, li trovo prima di fare delle gaff, prima delle gaff, le leggi della robotica. Però la cosa interessante delle leggi della robotica è che poi di Asimov, oltre alle leggi, alle tre leggi della robotica, eccolo qua. Un robot non può arrecare danno a un essere umano, ne può permettere, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceve danno. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani purché non vado in contrasto alla prima legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza purché la salvaguardia di destra, un contrasto alla prima legge. Ma la cosa interessante è che Asimov stesso si accorse che c'era un problema e a un certo punto introdusse la legge 0, che era un robot non può arrecare danno all'umanità. Ne può permettere, a causa del suo mancato intervento, l'umanità riceve danno. Vi direi, la cosa, il problema etico è, allora, diciamo, essenzialmente, altro tema, visto che stiamo parlando di fantascienza, torniamo a un tema classico della fantascienza, tornare indietro nel tempo di uccidere Hitler. Uccidere Hitler da bambino, la considerate un'azione etica? Probabilmente sì, però si tratta sempre di uccidere un bambino, a parte poi c'è da... Quindi, ecco, siamo agli ultimi tre minuti, quindi essenzialmente il problema di avere un'intelligenza artificiale etica rimane legato e, in realtà, il problema di delegare a dei sistemi, di prendere decisioni per conto nostro, in realtà è che, in realtà, siamo sempre noi a prendere decisioni e siamo noi a dover concordare con le decisioni. E il problema vero è che spesso noi non siamo d'accordo tra di noi sulle decisioni, quindi che è il motivo per cui tendenzialmente esiste la democrazia per poter votare. Quindi questo è il vero problema nell'automazione dei processi che conduce alla semplificazione. Siamo comunque noi a dover guidare il cambiamento e il problema dell'etica è che il problema è che non abbiamo una definizione di etica condivisa. Se vi capita, guardate questo, poi lo metto fra il materiale, questo articolo The Moral Machine, è interessante perché fa vedere come la considerazione di cosa sia etico e cosa non sia varia anche in funzione della provenienza geografica dei rispondenti e quindi o anche su alcune caratteristiche. Quindi, insomma, ecco. Va bene, detto questo, non so se ci sono altre domande, mancano... Sì, ah, non mi sa, io vedo tre minuti, ma in realtà siamo bastati, siamo arrivati alla scadenza e quindi continuo a lasciare il dilemma. Non volevo far scorrere il tempo perché abbiamo ancora qualche altro minuto, quindi se ci sono domande... Ecco, però, ecco, vi dico, il problema, ripeto, l'intelligenza artificiale adesso impara dalle nostre decisioni, però il problema è che spesso le nostre decisioni talvolta, ecco, come nel caso di radiologi, a differenza di qualche mese un radiologo cambia idea, due radiologi diversi hanno idee diverse. Ecco, questa è la cosa. Non so se ci sono altre domande. Mi pare che arrivino soltanto ringraziamenti e un'osservazione che dice un'illustrazione travolgente, bellissima, siamo molto contenti. Grazie, grazie, grazie molto. E se vi fate arrossire, insomma, ecco, questo, bene, bene. Allora, noi gireremo, come al solito, la chat al relatore, così se ci sono domande o spunti di riflessione potrà avere occasione per rispondere e troverete il materiale ed eventuali risposte nello spazio dove vi siete iscritti insieme alla registrazione. Io ringrazio voi per aver partecipato anche così attivamente, ringrazio il professor Laura per l'esposizione e per lo spazio di riflessione che ogni volta ci concede, ci permette di ragionare di semplificazione senza ragionare di semplificazione. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo webinar che si terrà il 2 di maggio, troverete già l'evento pubblicato se vi volete iscrivere e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie mille, professor Laura, grazie a tutti. Grazie a tutti, buona giornata. Mi disconnetto.